Musica Allora in tantissimi della Spagna che cos'è U-Sports? U-Sports è una ditta catalana e siamo tutti venuti qui in venti sono per vedere le tendenze che sono nelle attività è la prima volta che venimo qui a Rimini, non avevamo stato mai, sempre andavamo a Fibo, a Colonia due volte e ci piaceva sapere come sono tutte le attività nuove, le tendenze e come le possiamo noi inserire nel nostro programma e ci è colpito che c'è tantissima gente, non pensavamo che forse era così grande e ci è piaciuto praticamente tutto, il boxing è stato top, strong by Zumba praticamente tutte le cose che speravamo trovare le abbiamo trovato, è grandissimo e ci sono tante Qualcuna cosa ci ha sorpreso un po' è quella delle cinte che vanno indietro, questo è un po' sorprendente di dove siete? Noi siamo una ditta catalana che abbiamo le sei palestre ma cinque sono nella parte di Barcellona e una nella parte nord di Catalonia in Girona, in Salt e le altre cinque in Barcellona e tutti sempre con piscina, con il servizio piscina aggiunto Grazie a tutti Grazie a tutti